Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano di fantacalcio. Come sempre, e grazie al supporto costante del veterano, cerchiamo di capire come muoverci in queste finestre di campionato, tra una giornata e l'altra, per capire quale giocatore cercare di mollare, quale giocatore cercare di andare ad acquistare, nei vari scambi, ovviamente se avete campagne e finestre di scambi sempre aperti, questo può essere un ottimo video per cercare di capire come andare. E chiaramente questi tipi di video aiutano anche chi non ha finestre di mercato aperte, però inizia a farsi un'idea su quelli che sono i valori dei propri giocatori, cercare di capire come muoversi magari nella finestra invernale di calcio-mercato e anche di scambi aperti, di svincoli e di future operazioni che bisogna fare in campionato. Spero vi sta andando tutto bene il campionato e il fantacalcio, a me onestamente fa abbastanza arrabbiare per i gol subiti, ma detto questo partiamo con il video. Prima di partire vi ricordo di passare sul mio canale, fare sottoscrizione e attivazione campanellina per rimanere sempre aggiornati a tema fantacalcio. Tre giocatori da mollare, il primo è Cominers, a mio avviso un nome che può essere tranquillamente ceduto per diversi motivi, intanto il nome è molto quotato a livello di reputazione, quindi un nome che si può scambiare. Perché aggiungo questa conclusione? Perché penso che il sistema organico dell'Atalanta abbia premiato tanto il giocatore olandese, cosa che con un sistema di gioco un po' meno rodato di Tegomotto alla Juventus questo potrà avvenire un pochettino di meno. Nel senso che sicuramente sarà complicato arrivare alla doppia cifra per Cominers, come avvenne negli anni passati con l'Atalanta e per questo motivo il ricordo dei fantallenatori è un ricordo abbastanza vicino e quindi può essere ceduto considerandolo a tutti gli effetti un top di reparto. Al momento con la Juventus ha fatto solamente un assist, una volta solo è andato oltre a 6, come voto, due tiri a partita, questo è lo score di Cominers, complice anche l'infortunio che c'è di mezzo in queste giornate, potrebbe un po' deprezzarsi il suo valore e per questo motivo vi dico, se avete dei fantallenatori avversari che apprezzano particolarmente il talento olandese, può essere una buona idea cercare di andare a scambiarlo in questa fase. Per scambiarlo a fronte di chi? Un giocatore che magari possa essere un po' più quotato a livello di potenziali bonus, faccio un nome tra tutti, penso a un Barella per fare un nome ad esempio, che può essere sicuramente messo sul piatto da bilancia per Cominers. Secondo giocatore da mollare a mio avviso è Pavard dell'Inter, l'ho visto in forte flessione a livello di prestazioni, sicuramente c'è la concorrenza forte di Bissek sulla destra, ma sicuramente anche il fatto che Deschamps e il nazionale gli abbia preferito la panchina anziché la titolarità lascia un po' sicuramente a pensare questo giocatore francese, che comunque è un giovane a 28 anni, ma ha prestazioni leggermente in calo. Quello visto lo scorso anno, inizio campionato, era un giocatore un po' diverso, più dinamico, più bravo a livello difensivo, in questa fase dell'anno sicuramente si sta facendo apprezzare un pochettino meno e anche le prestazioni a livello di Fantagaccio ne stanno sicuramente deprezzando. Partito forte, due belle prestazioni, poi due brutte prestazioni, poi al momento prestazioni diciamo nella media, ma senza Fammi e senza Rod, è solamente un assist per lui finora e questo sicuramente va un po' a deprezzare nel valore. Anche la quotazione di Bissek che sicuramente vorrà essere maggiormente integrato nel sistema Inter, sicuramente farà un po' meno partecipare al gioco Pavard. Per questo motivo è un giocatore comunque che viene apprezzato dai fantaglianatori, cerchiamo di puntare alla vendita, allo scambio, se possibile, se siete coperti a livello di organico. Terzo giocatore da mollare, mi avviso, è Lorenzo Pellegrini, prestazioni in forte, forte discesa, un giocatore che si è fatto apprezzare negli anni passati per le buone prestazioni a livello di bonus, un po' chiacchierato anche sulla piazza di Roma, e sicuramente questo è un fattore da tenere in forte considerazione, però è un giocatore molto emotivo, molto sensibile. Abbiamo visto delle prestazioni contro l'Inter anche qua un po' sui nervi, le prestazioni sono un po' altarenanti, solamente un 7 in quest'anno, una insufficienza che fa il paio di fatto con la prestazione ottima, poi qualche insufficienza, insomma, senza infamia e senza l'ordine, anche qua solamente un assist come Comanis e come Pavard, per questo motivo vi dico che è un giocatore che viene comunque apprezzato mediamente dai fantaglianatori avversari, quindi potrebbe essere utile monetizzare in questa fase dell'anno, cercare di scambiarlo, anche in questo caso puntando a un giocatore alla frattesi, per fare un nome, se siete coperti. Tre giocatori da prendere, sicuramente il primo è Dodò, in fortissima scesa, grazie anche a Paradino, grazie anche a Recupero dopo l'infortunio, prestazioni in fortissima scesa, e davvero si sta facendo apprezzare per la costanza di rendimento il giocatore brasiliano, 25 anni per lui, giocatore molto dinamico, di movimento arriveranno anche bonus pesanti, ne sono sicuro, al momento le prestazioni sono davvero ottime, per questo motivo cerchiamo di andare a prenderlo, soprattutto se i fantaglianatori avversari non lo reputano un semi top alto, cercate di approfittarne, perché per il modificatore difesa, è un giocatore che vedete anche qui sotto, media voto 6.38, fa la differenza tra averlo e non averlo, al momento ha fatto davvero prestazioni ottime, 3-6,5 di fila, questa volta contro le lecce è un 7-7,5 per alcune redazioni, ma davvero prestazioni in forte, forte ascesa, Palladino sta avendo su di lui un ascendente davvero molto forte, quindi il giocatore brasiliano è un giocatore da impallinare nelle vostre lecce, cercando di portarlo a bordo, subito, subito, e sperando che appunto chi è possessore di Dodò, al momento sia un po' meno, come dire, fruitore, un po' meno, è così, accondiscendente alla vera o non alla vera, quindi attenzione massima per il giocatore brasiliano, va preso, direi, senza se e senza ma. Secondo giocatore da andare a acquistare, vi ho parlato intanto tantissimo tempo fa, è Angiorin dell'Empoli, giocatore giovanissimo, 22 anni, che sta facendo la differenza a livello di classe e di prestazioni in questo Empoli, mi piace davvero tanto, vi ho parlato già con dei video, già con delle live, già appunto in separata sede per chi mi segue privatamente, però devo dire che il giocatore 22 anni inglese sta facendo veramente la differenza, lampi di classe in questo Empoli, mi piace davvero tanto, sicuramente anche qua il fatto che trovi titolarità aiuta al salto di qualità, un giocatore che in passato ha avuto grandissime prestazioni, vedete, quasi tutto verde per quanto mi riguarda, un giocatore che passa tra il 6, 6 e mezzo, 7, 7 e mezzo, 8, insomma, un giocatore dall'elevata classe, a Empoli sicuramente dovrà terreno fertile per mettere in alto, probabilmente lo avrete anche svincolato in certe leghe, io ad esempio nella mia Lega 12 in certi casi ho visto che è svincolato e quindi credo che sia un momento buono per andare ad acquistarlo, sicuramente in Lega 8 è svincolato, ma anche in Lega 10 potrebbe esserci tanto mercato su di lui, quindi buona prestazione, buone prestazioni, sicuramente positivo, Empoli ripeto, è una terra dove si può fare molto molto bene a livello anche di potenziali giovani. Ultimo giocatore Blasic, rientrato dall'infortunio, giocatore 27enne, è passato la sua carriera anche in Inghilterra, giocatore molto apprezzato in precedenza da Juric, ora anche da Vanoli, che lo ha ributtato nella mischia, vediamo l'ultima prestazione davvero di alto livello, medievoto e fantamidevoto in fortissima ascesa, complice anche l'ultima prestazione direi medio buona, ha fatto veramente molto bene, finora un gol, un assist e sicuramente Bottino sarà in forte ascesa anche per il prossimo futuro, quindi giocatore da tenere in forte considerazione. Qua sarà magari un po' più difficile andare ad acquistarlo, perché chi è possessore di Blasic difficilmente se ne priverà, però se avete qualche chance, qualche finestra, provate a puntarci, magari lasciando sul piatto qualche giocatore un po' meno interessante. Tutte queste analisi le trovate anche su Fanta Lab, e sul canale di Viterano, vi aspetto presto, grazie di cuore a chi è già passato, vi lascio sotto il link, vi lascio anche sulle impressioni il link, mi trovate spesso anche live su Fanta Lab, quindi fate questo passaggio per avere informazioni, su da formazioni, su chi schierare, su chi scambiare, insomma un mondo di fantacalcio davvero sempre, sempre aperto, open 24 ore su 24 praticamente, quindi vi aspetto per darvi suggerimenti in continuazione. Ecco qui anche il link, quindi questo sarà un link che ci accompagnerà per tutto l'anno, quindi a brevissima arriverà anche l'asta di riparazione, poi pronti per la nuova annata, pronti per essere sempre vicino a Viterano. Un abbraccio, ciao ragazzi, prestissimo! Grazie a tutti!